Cantare e fare il funk non mi vogliono nel gruppo Allora grazie, non mi vedo tutti, però se fate del rumore vi sento, riesco a percepire E' una bella concertina, prima nuova stagione, qui è in magazzini con DJ Time, The Party World, spero farete tardi con noi, volevo ringraziare tutti quelli che sono qui stasera e anche Pepsi, perché è sempre bello entrare in un locale a gratis, diciamo la verità In questo periodo di grande crisi, se c'è qualcuno che ci regala una festa, è sempre bello Poi ci rivediamo e mettiamo un po' di musica del DJ Time, adesso ci incontriamo a questo Showcase, la presentazione del nuovo album, The Planet World